I 4 Mainstays sono una rete mondiale di potenziamento per portare l'intelligenza aperta nella vostra vita quotidiana, liberando i vostri punti di forza, i doni e i talenti innati, in modo che possiate contribuirle a beneficio di tutti. Numero 1. La semplice pratica dei brevi momenti di intelligenza aperta, ripetuti molte volte finché diventano ovvi in ogni momento della vita quotidiana. Numero 2. Il Trainer. Trainer con esperienza, disponibili 24 ore al giorno attraverso e-mail e live chat. Numero 3. Il Training. Innumerevoli media gratuiti, video, audio e libri da scaricare, training dal vivo e online. Numero 4. La comunità. Persone da tutto il mondo che fioriscono nei loro punti di forza, doni e talenti e appassionate nel fare cambiamenti poderosi nel mondo che sono di beneficio per tutti.